Non parlate di Porta a Porta in presenza di Roberto Fornigoni. Il italiano ha preso una visita di fronte e chiamato sulle contrarre con il suo conferenza di Israele Presidente Benyamin Netanyahu. Il ha detto che il panno è di Andrea Appiani e ha portato il Parnassos, in altri parole, il Bunga Bunga di 1811. E' quello che è io e il secondo è Mariano Appicella. Grazie a tutti e ricordate che non si prendetevi più seriously. Bellasconi in court later today to answer charges related to his bunga bunga parties. Bellasconi in court